benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo come sempre l'edizione del fine settimana è un'edizione che va in onda poco prima delle 10 e dunque un po' più rilassata diciamo dal punto di vista anche del dell'orario vi ringrazio se siete comunque connessi perché è sabato c'è un sole meraviglioso davvero meraviglioso e meriteresse di stare a fare altro diciamo in giro in giro per l'italia allora ringrazio subito chi arriva come vittoria polacci andrea cavenaghi gabriele brannetti anna russo nicola pasqualato andrew clemens che ci dall'australia da melbourne dove in questo momento dovrebbe essere sette di sera saluto gerardo astore vladimiro campello reduce dalla mobilitazione per le liste del popolo famiglia ricordo oggi 13 maggio è il giorno in cui depositiamo definitivamente le liste saluto michela dadamo gerardo astore francesca marzoli nicola pasqualato filippo fiani enrico marotta paolo ruotolo infatti a melbourne è inverno come ci informa andrew clemens saluto don alessandro scarda federica vacca raffaella greco oggi come ci ricorda vittoria polacci è il centenario dell'apparizione a fatima della vergine maria per noi è una giornata meravigliosa una giornata straordinaria volemmo raccontare ne parleremo oggi con la tristezza di vedere che nessuna prima pagina nessuna neanche una dei giornali ha riportato la notizia anche con immagini meravigliose di papa francesco a fatima davanti a centinaia di migliaia di persone la notte di preghiera non c'è nessun quotidiano che abbia messo la notizia in prima pagina neanche una riga solo la croce la croce apre su fatima apre sul centenario apre su papa francesco a fatima anche perché al di là del centenario c'è la notizia e ritenevamo fosse davvero la notizia più rilevante del giorno mi scuso per questo ennesimo ciuffo ribelle oggi che speravo di essere più elegante con la maglia del popolo della famiglia dicevo è incredibile giornalisticamente lo dico da giornalista che oggi questa notizia sia completamente occultata dalle prime pagine dei quotidiani solo il quotidiano la croce apre sulla notizia non solo del centenario ma del papa e della straordinaria folla che ha incontrato a fatima dove oggi tra l'altro ci sarà la solenne celebrazione la cani la canonizzazione dei due pastorelli di fatima perché ne parleremo oggi nella notizia nel nostro stampa evangelo vi ringrazio perché l'ultima puntata di stampa evangelo francamente in termini incredibili ha raggiunto 10.000 persone 10.000 persone hanno seguito la puntata di stampa evangelo è merito vostro del vostro mi piace del vostro condividi evidentemente il fatto che riusciamo a far arrivare questa trasmissione a molte persone pensate che da settembre da quando abbiamo cominciato a fare popolo della famiglia tv popolo della famiglia tv ha suscitato toccato quasi due milioni di persone c'è uno strumento alla fine artigianale come questo della diretta interattiva ha toccato appena dico appena due milioni di persone dico appena perché sono 58 milioni da incontrare due milioni di persone con le dirette interattive di popolo della famiglia tv grazie ai 21 conduttori alle 21 trasmissioni che facciamo al coordinamento editoriale di Pongiluppi, Ereuteri, Centofanti, Marco Tuglio e Marco Buono grazie al lavoro svolto da Gianfranco Amato è arrivato Massimiliano Amato la sua trasmissione è sempre tra le più viste del canale grazie a Nicola Di Matteo al suo coordinamento nazionale che ci sta anche mettendo in condizione di presentare le liste in tutta Italia ma insomma il fatto è che questo piccolo strumento in una sola puntata, l'ultima puntata di Stampevangelo 10.000 persone e nel complessivo a fine maggio arriveremo ad aver toccato 2 milioni di persone sul territorio nazionale che da settembre, cioè in pochissimi mesi è un risultato francamente inaspettato e allora dando il buongiorno ad Enrico Marotta, la bellissima Bernarda Rauci, a Carla Lodi, a Paolo Costamagna e chiedendovi un mi piace, un condividi alla diretta noi andiamo alla nostra missione principale come sempre al mattino che è scoprire la buona notizia del giorno vi ho accennato qual è la brutta notizia insomma la brutta notizia è che Fatima completamente cancellata dai giornali scientemente, persino Avvenire fa un'apertura stranissima sul terzo settore e mette un titolino centrale in bianco senza neanche scrivere la parola Fatima o Maria all'interno di questo titolino qualcosa di francamente molto molto strano la mia idea ce l'ho, vi spiegherò qual è la mia idea per cui Fatima è stata cancellata dai giornali, dalle prime pagine dei giornali di oggi ma prima consoliamoci leggendoci la buona notizia del giorno la buona novella di oggi, saluto anche Paola Zen impegnata in queste ore con il popolo e la famiglia a Patova alla consegna delle liste c'è questa coincidenza straordinaria che ieri non ho potuto non sottolineare oggi 13 maggio proprio a mezzogiorno scadono i termini per la nostra presentazione di lista ed è il 13 maggio del centenario di Fatima non credo alle coincidenze, credo che Dio parli anche attraverso questi fatti che indibbiamente coincidono e ci danno grande coraggio e grande forza dicevo partiamo dalla buona notizia del giorno e poi parliamo di questa tristezza giornalistica della cancellazione di Fatima dalle prime pagine dei giornali siamo nel Vangelo di Gesù Vangelo di Giovanni, capitolo 14 i versetti che leggo sono quelli che vanno dal 7 al 14 in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli se conoscete me conoscerete anche il padre fin da ora lo conoscete e lo avete veduto gli disse Filippo signore mostraci il padre e ci basta gli rispose Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai mai conosciuto Filippo che ha visto me ha visto il padre come puoi dire mostraci il padre? non credi che io sono nel padre e il padre è in me? le parole che io vi dico non le dico da me ma il padre che è con me compie le sue opere credetemi io sono nel padre e il padre è in me se non altro credetelo per le opere stesse in verità in verità vi dico anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al padre qualunque cosa chiederete nel nome mio io la farò perché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò è parola del signore sono felice di vedere Paolo Pasanisi Zingarello connesso con la diretta particolarmente felice perché Paolo è un dirigente importante del popolo e della famiglia di Roma ed è a Fatima quindi l'idea che in questo momento la diretta sia riverberata fino a Fatima è davvero una fonte di grande gioia per me qui a Stampevangelo sempre protetto dalla presenza di Maria alle mie spalle la Maria che amo sotto la croce la Maria che venero la Maria sofferente la Maria madre madre sofferente e allo stesso tempo madre di Dio trionfante sul serpente sul male e qui entriamo a discutere della questione il popolo e la famiglia è fortemente presente a Fatima in questo momento pur essendo impegnati perché siamo impegnati nella consegna lista il paradosso è che una nostra sosto candidato sindaco che è Lucianella Presta candidato sindaco di Grugliasco ha preferito andare a Fatima pensate un po' lasciando l'incarico a noi del popolo e della famiglia di presentare le sue liste lei non è presente fisicamente alla presentazione lo stiamo facendo noi per lui noi per lei perché lei è a Fatima in questo momento così come a Fatima Paolo Pasanisi Zingarello altro nostro dirigente nazionale a Fatima Don Salvatore Vitiello un sacerdote che segue da vicino l'evoluzione del popolo e la famiglia partecipa a molti convegni anche insieme a me quindi come dire il nostro movimento il popolo e la famiglia che come ricorda Giuseppe Brienza il 16 maggio del 2016 si è consacrato al cuore immacolato di Maria con una bellissima e sentita cerimonia in Santa Maria Maggiore a Roma il nostro movimento è insieme inevitabilmente connesso pur essendo noi lo diciamo sempre un movimento laico aperto a tutte le persone di buona volontà sostenuto anche da molti non credenti abbiamo ormai un editorialista della Croce che è un non credente lo dice chiaramente ma sostiene le nostre battaglie spesso è anche connesso qui con noi si chiama Antonio Andrea Fratini Federico Pieroni fa notare che il popolo e la famiglia si è consacrato nel giorno del suo compleanno ed era anche il compleanno di Sara Deodati altra dirigente importante del popolo della famiglia c'è questo raggio di luce che attraversa la nostra diretta di oggi che mi pare veramente meraviglioso vabbè io non devo farmi prendere poi vi dicono che faccio il mistico e non voglio farlo sono sempre l'ultimo dei peccatori però insomma questa inquadratura davvero forse dà il segno di quello che stiamo facendo di un qualche sostegno che noi sentiamo ecco diciamo di un qualche sostegno che noi sentiamo è incredibile come ecco questa luce sia arrivata in questa maniera così forte a illuminare in questo momento la diretta non so dare spiegazioni razionali diciamo non posso dirvi altro che io credo punto io credo Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen non riesco davvero a dire altro non è una lampada ecco se capite sono insomma in esterna quindi non è non è una lampada vi chiedo davvero mi piace un condividi a questa diretta facciamo vedere ovunque e facciamo respirare ovunque incredibile questa luce ha dato anche un nitore completamente diverso al simbolo del popolo della famiglia che porto sulla maglia una maglia di cui ringrazio sempre Barbara Moi Francesca Centofanti Emanuele Pongiluppi che hanno voluto che questa maglia fosse insomma proprio personalizzata per me anche per le mie misure diciamo quindi grazie davvero un mi piace un condividi a questa diretta una diretta speciale come capite nel giorno del centenario di Fatima e nel giorno in cui il popolo della famiglia presenta le liste in tutta Italia oggi sul Codiano La Croce oltre all'apertura su Fatima trovate anche l'elenco di tutte le nostre liste presentate in ogni regione dal Friuli alla Sicilia dal Piemonte alla Campania con tutte con grande precisione con congratulazioni fatte dal segretario comunale pensate che a Verona abbiamo presentato la nostra lista non solo in città ma anche per le otto municipalità e c'è stato una congratulazione forte perché non abbiamo sbagliato una virgola in nessun incartamento c'è stata la meravigliosa vicenda di Genova la città più popolosa del nord dove si vota dove ci sono state pressioni durissime contro il nostro Stefano Arighi affinché non si presentasse invece anche lì miracolosamente come questo raggio di luce che illumina esattamente così Nicola proprio così miracolosamente anche a Genova una marea di firme abbiamo già consegnato siamo tra i candidati con un ragazzo di 34 anni un papà di 34 anni che fa il candidato sindaco contro tutto e tutti tutti che ci dicevano vi dovete aggregare al centrodestra al centrodestra ci faceva arrivare gli insulti dai radicali che hanno internamente la lista e noi abbiamo resistito con un manipolo di ragazzi concapitanato da un papà 34enne e grazie all'organizzazione che una donna coraggiosa come Maria Barbieri che voglio pubblicamente ringraziare l'organizzazione di una donna come Maria Barbieri e il volto di un giovane come il 34enne Stefano Arrighi candidato sindaco per far sì che il popolo e la famiglia nella città più popolosa del nord Italia dove si vota sia presente con la sua lista in autonomia davvero qualcosa che ha di miracoloso lo ripeto è un 13 di maggio straordinario per certi versi lo vivo così e anche io come Rosa e l'onora degli esposti sono commosso questo raggio di luce che sta piovendo in maniera così straordinaria ho fatto ormai centinaia di puntate di stampa e vangelo e questa è l'unica puntata l'unico giorno in cui ci ritroviamo in questa condizione davvero come dice Guido Paianeselli se lo avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti davvero così Cristina Zaccanti dal Piemonte fa arrivare il sostegno a Stefano a tutta la lista di Genova Stefano ha saputo custodire l'integrità del popolo e della famiglia ed è un esempio da seguire sempre e ovunque mi chiedo un mi piace un condividi a questa diretta tra l'altro lo dicevo la notizia di Fatima è stata completamente cancellata dai quotidiani non c'è neanche un quotidiano che riporti mezza riga di solito se Papa Francesco starnutisce in aereo ci sono i titoloni di apertura su tutti i giornali questa volta neanche una riga per il Papa che va a Fatima per il Papa che va a Dammaria neanche una riga su un prima pagina una foto niente eppure ho dovuto pubblicarle io le foto con centinaia di migliaia di persone che sono davanti a Maria nella notte perché certo è notte ma con la luce della propria speranza fanno giorno ognuno con la propria candela davvero straordinaria anche dal punto di vista delle immagini eppure guardate tutte le prime pagine di tutti i quotidiani non c'è mezza riga perché perché ne sono convinto Fatima Maria è il simbolo della lotta del male contro la famiglia lo disse con chiarezza il cardinale Caffarra oggi ne parliamo sul quotidiano la croce la lettera di Suor Lucia di Fatima che annuncia come battaglia finale quella del Papa contro quella del male scusate di Satana contro la famiglia e contro il matrimonio è l'annuncio della battaglia finale un annuncio tranquillizzante perché Suor Lucia dice che la Madonna comunque schiaccia la testa a Satana ma questo è il terreno di Fatima Fatima è per noi fonte di ispirazione per noi cattolici e in particolare per noi del popolo della famiglia perché il terreno determinante noi l'abbiamo individuato la lotta del male contro la famiglia questo è il terreno fondamentale della battaglia in corso lo abbiamo individuato e noi come popolo della famiglia ci siamo battuti ci stiamo battendo non è un caso che il Papa che lo ripeto pure se starnutisci in aereo ottiene le prime pagine di tutti i quotidiani nonostante una folla sterminata che lo ha accolto in Portogallo nonostante una preghiera meravigliosa sulla pace nel mondo parole poetiche io sono qui vestito di bianco dice Papa Francesco a rappresentare il cuore immacolato di coloro che chiedono la pace è una una meravigliosa preghiera quella di Papa Francesco niente neanche mezza riga solo noi sul quotidiano la croce in apertura l'unico giornale che fa l'apertura per solo nel quotidiano cattolico avvenire fa l'apertura sul terzo settore che fu l'apertura del quotidiano quando hai una notizia come questa e addirittura ci hai rinviato a Fatima davvero per me è una dimensione incomprensibile qualche volta dal punto di vista giornalistico lo dico non solo dal punto di vista del cattolico e del credente dal punto di vista giornalistico la notizia c'è se viene occultata lo ripeto questo occultamento è è un occultamento che deriva da una scelta precisa io continuo a dire massonica scusate se mi azzardo ma insomma la presenza della massoneria nei giornali la conosco bene è anche da vicino e non è lontana neanche dai dai quotidiani cattolici purtroppo parlo non per sentito dire ci ho lavorato quattro anni in quel giornale allora vi chiedo davvero un mi piace e un condividi alla diretta perché adesso sto per affrontare un altro tema allora intanto sosteniamo la presentazione delle liste in tutte le città a mezzogiorno scadono i termini e quindi avremo certezza di quello che sta accadendo mi pare che non abbiamo problemi da nessuna parte in tutte le città stiamo procedendo con i complimenti anche dei di coloro a cui consegniamo le liste a Padova so che stanno per chiudere proprio in questione andare a consegnare in questione siccome vedo Maria Verita Boddi la bellissima Verita qui connessa fatemi sapere se Padova è andato tutto bene perché ovviamente è una delle città più importanti di cui ci presentiamo insieme a Verona insieme a Genova insieme a Alessandria insieme a tantissime città in Italia abbiamo schierato le punte di diamante abbiamo Mirko De Carli candidato a Riolo abbiamo Raffaella Di Norfi candidato a Ischia la novità dell'ultima ora diciamo così a rappresentare il popolo e la famiglia nella lista di coalizione che abbiamo fatto a Ischia insomma abbiamo il comune di Melito come mi informa Giuseppe Fogone in questo momento in provincia di Napoli dove stiamo presentando le liste ma sono davvero una marea non riesco neanche a ricordarle tutte da Zevio a Goito a Fontana Fredda a Grugliasco Savigliano Borgo Manero è impressionante davvero impressionante la presenza di liste del popolo e la famiglia a Riccione in giro per l'Italia a Conegliano a strepitoso lavoro che hanno fatto i ragazzi di Conegliano con Lorenzo Damiano e Damiano Cattarin davvero davvero grazie grazie a tutti per un lavoro organizzativo che è faticosissimo solo chi lo fa lo ripeto spesso sa cosa significa fare questo tipo di lavoro ed è incredibilmente riuscito adesso scusate ma non vorrei ecco che si perdesse qualcosa dell'immagine ecco qui ecco qui siamo di nuovo in diretta chiedendo a tutti voi davvero un aiuto Moreno Lovat dice c'è il sole che sui raggi illumina era il manto davvero di amicizia e di protezione che credo noi come popolo e famiglia stiamo ottenendo in un giorno come questo non sono profeta lo assicuro sono davvero l'ultimo dei peccatori sono niente da questo punto di vista sono un ragazzo che si batte insomma come si stanno battendo l'ho scritto l'altro giorno in un articolo un po' provocatorio i centomila gatti i centomila gatti che andavano a dare la caccia ai topi dei falsi miti di progresso insomma questo siamo questo siamo noi insomma i centomila gatti che stanno facendo questo tipo di lavoro contro il male per quello che possono le loro povere armi montate da essere finiti e mortali però ho anche detto a quelli che ci vengono qualche volta in giro che se poi Maria però si schiera con noi sono fatti loro se si arriva a avere l'intercezione di Maria Faustino Cogliandro mi chiede Ventotene a Ventotene non sono potuto andarmi a candidare perché i collegamenti l'isola mi sarei dovuto isolare appunto materialmente isolare e durante questa campagna elettorale mi si è reso chiaro che era impossibile farlo perché devo dare una mano davvero a tutti vedo Lorenzo Damiano che è appena arrivato candidato a sindaco a Conegliano vedo Massimiliano Esposito candidato a Goito e io voglio davvero che siano sostenuti tutti i nostri amici con il massimo della presenza vedo che è arrivata Rachele Bruschi bellissima neomamma molto giovane facciamo gli auguri a Rachele e al marito per la nascita di qualche giorno fa saluto Pierpaolo Servillo Ottavio De Luglio che ieri mi ha visto a Canale 5 mi dice sei grande sono solo grosso lo ripeto insomma sono solo grosso e quindi in video mi si vede bene perché sono lì piazzato diciamo e il lavoro fatto a Ventotene rimane ho scritto un nuovo manifesto a Ventotene perché ci sono stato fisicamente vari giorni per dove poi ho dovuto capire che la questione dell'isolamento su una piccola isola era incompatibile con il sostegno alle liste in tutta Italia che ho dovuto dare che ho già dato finora ma che in campagna elettorale sarà inevitabilmente ancora più massiccio quindi il lavoro fatto a Ventotene adesso in questi giorni proprio di campagna elettorale faremo uscire il nuovo manifesto di Ventotene e con questo fare appunto un elemento della nostra battaglia saluto anche Anna Russo saluto Gianluca Valpondi Ottavio Deludio dice fai sclerare tutti quelli con cui vai a discutere è vero c'è questa cosa ieri pure uno è mezzo impazzito mentre parlavo di matrimonio e famiglia a Canale 5 evidentemente quando sentono questi temi quando sentono parlare di famiglia siamo sempre dentro la stessa questione la questione che fa cancellare oggi Fatima dalle prime pagine dei quotidiani quando sentono parlare di questo si agitano e si innervosiscono tutti diventano tutti estremamente irascibili evidentemente c'è c'è da questo punto di vista una attenzione importante alle parole che diamo perché diventano irritanti oggi addirittura c'è stato uno non mi ricordo come si chiama magari qualcuno di voi mi aiuta perché stavo discutendo con questa persona che si è lamentato perché ho posto la questione dei bambini down dello sterminio dei bambini down è intervenuto nella discussione la sorella di Matteo Renzi la sorella di Matteo Renzi Matilde ha un figlio down e ha organizzato quella famosa maratona a cui ha partecipato anche Agnese Renzi durante proprio una settimana fa ebbene anche la sorella di Renzi si è agitata contro la mia denuncia di uno sterminio che è in corso in Danimarca in Islanda un vero e proprio sterminio questi cattolici un po' tiepili mi volevano spiegare che non bisogna fare le crociate bisogna fare le maratonine le maratonine sì le crociate no ora io non ho il fisico del crociato non sono un crociato ripeto sono sempre l'ultimo dei peccatori ma se vedo avanzare uno sterminio e pongo la questione in termini politici perché sbaglio lo chiedo a Matilde la sorella di Matteo Renzi lo chiedo ad Agnese perché è sbagliato che il popolo la famiglia si batta politicamente contro contro lo sterminio di un segmento di popolazione ecco Barbara Pulignani mi aiuta si chiama Pierluigi Sforza l'autore di questo post contro di noi davvero un po' stupido intervenuta la consigliera comunale di Bologna che tra l'altro stimo si chiama Raffaella Santi Casali è intervenuta appunto la sorella di Matteo Renzi per attaccare il popolo la famiglia perché abbiamo posto la questione dello sterminio in Islanda e in Danimarca dei bambini down e Matilde ha una bambina down quindi conosce davvero il problema secondo loro bisogna parlarne sommessamente senza disturbare il manovratore senza denunciare che in Danimarca c'è un progetto che si chiama Down Syndrome Free 2020 del governo danese per azzerare la nascita dei bambini down nella loro logica dobbiamo dare una mano ai bambini down esistenti come assolutamente giusto e fregarcene dello sterminio del 98% dei bambini down concepiti su questo territorio io penso che davvero questo sia qualcosa di particolarmente stridente dal punto di vista politico e vorrei dirlo anche Cristiano quindi Sforza come si chiama Pierluigi Sforza dico ricordati che Dio vomiterà i tiepidi non veniteci a spiegare come si fanno le battaglie politiche noi stiamo facendo battaglia politica in maniera in realtà molto mite non abbiamo armi abbiamo mani nude qualche parola e rarissime comparsate sui media per dire delle cose che però sono necessarie se c'è uno sterminio in atto qualcuno deve denunciarlo perché una maratonina a Pontassieve non basta una maratonina a Pontassieve non fa nulla non danneggia in alcun modo gli operatori di questo sterminio solo un grande culture camp una grande battaglia culturale reale concreta massiccia dura 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 può portare un livello di consapevolezza su questi temi un livello di consapevolezza necessario a salvare dallo sterminio lo ripeto lo sterminio lo sterminio decine e decine di migliaia di bambini down concepiti che vengono soppressi nel ventre del loro madre alex zino dice le maratonine sono come le raccolte firme non servono a niente le battaglie sono dure lo so che sono dure lo so che qualche volta io posso essere fastidioso è come in televisione poni una questione in maniera vera e subito strillano tutti d'accordo? oggi poniamo la questione lo sterminio e bambini down ma è fastidioso dirlo oggi diciamo che sui giornali non c'è una riga su Fatima perché Fatima significa la battaglia del male contro la famiglia perché Maria è ancora elemento di scandalo è fastidioso dirlo diciamo che Macron è massone quando si fa ritrarre il primo secondo da presidente francese incorniciato in una piramide e quel simbolo massonico voluto è prova di qualcosa che accadrà e che farà molto male all'Italia lo spieghiamo perché spieghiamo già a Cattalila sovrasse franco tedesco siete dei matti visionari gridate al complotto poi adesso sono una settimana che i vari cacciari vanno in televisione a spiegare che Macron è massone o Ferruccio De Bortoli parla di odore stantio della massoneria dentro le logiche del potere italiano ora non è che se si dicono le cose con il tono mite che noi utilizziamo siamo dei fessi sappiamo le cose le decliniamo per quello che sono e facciamo battaglia politica e deve essere riconosciuto il diritto il nostro diritto di combattere il male altrimenti si fa come dice Guido Pianeselli non vogliono vedere il male ed è meglio nasconderlo Alessandro Tumino dice così si legittima la politica dello scarto il popolo della famiglia nasce per esplicitare la battaglia perché come dice Rosa e l'onora degli esposti la verità va gridata sui tetti e Federico Pianoni ribadisce giustamente basta col buonismo becero allora andate sul profilo di questo Pierluigi Sforza dove trovate la sorella di Renzi che mi insulta Laffaella Santi Casali consigliere PD di Bologna che mi insulta questo stesso Sforza che mi insulta e spiegate loro perché il popolo della famiglia fa una battaglia chiara e netta contro lo sterminio dei bambini down non fa una maratonina fa una battaglia politica perché è necessaria una battaglia politica senza una battaglia politica non si va da nessuna parte e il popolo della famiglia per questo nasce per questo a Genova a Berona a Padova ad Alessandria a Monza a Crema a Borgomanero a Savigliano a Grugliasco a Riolo a Riccione a Ischia a Melito per questo a Zevio a Goito a Teolo non so più neanche quanti sono i comuni si presenta in posizione autonoma con questo simbolo amici del popolo della famiglia adesso è il momento di far uscire questo simbolo e sia nella vostra fotoprofilo voi sapete la mia fotoprofilo ormai da un anno non esiste esiste questo simbolo se volete la vostra faccia accompagnatela a questo simbolo ora è il momento della campagna elettorale ora è il momento di far mettere una croce a tutti i cittadini che possono votare il popolo della famiglia sul simbolo del popolo della famiglia facciamolo conoscere è la prova generale per la nostra battaglia in vista delle elezioni politiche e allora o ci saremo noi o come dice Paolo Ruotolo nessun altro porterà questi temi in Parlamento dunque è il momento di far emergere il simbolo del popolo della famiglia i gruppi dirigenti del popolo della famiglia il movimento complessivo del popolo della famiglia e il suo programma a livello nazionale per farlo conoscere ovunque e farlo votare altrimenti vinceranno i tiepidi quelli che ci spiegano che si fanno le maratonine per i bambini down non si può fare la denuncia dello sterminio che avviene in Danimarca e in Islanda con questo noi abbiamo definitivamente perso ci siamo fatti mettere definitivamente i piedi in testa invece di fare quello che fa Maria Fatima mettere il piede a schiacciare il serpente come dice Felici da Perracchi Madonna di Fatima salva la famiglia dalle grinfie di Satana e dei suoi seguaci compresi i parenti dei nostri politici ipocriti Emma Sartori dice io nel mio piccolo ci sono ci siamo tutti nel nostro piccolo siamo tutti piccoli ma abbiamo sommato come ho detto ieri dicono eravamo quattro gatti siamo diventati centomila gatti centomila gatti 52.000 hanno già votato per il popolo la famiglia e i suoi candidati sindaco il 5 giugno del 2016 altrettanti si apprestano a votare per i nostri candidati sindaco nella tornata dell'11 giugno 2017 siamo centomila gatti non quattro gatti e militiamo per la verità per la verità non per essere tiepidi servitori del nulla per la verità non tiepidi servitori del nulla e allora un mi piace un condividi questa diretta facciamola vedere a più gente possibile c'è il simbolo del popolo della famiglia ci siamo noi che oggi giorno del centenario di Fatima ci presentiamo all'attenzione della protezione possibile che chiediamo e vogliamo da Maria Vergine affinché interceda presso il Padre per proteggere la nostra azione l'azione di un movimento consagrato al cuore immacolato di Maria qual è il movimento del popolo della famiglia ora abbiamo tanti nemici abbiamo il fuoco amico e il fuoco nemico ma adesso bisogna dare battaglia senza temere anzi sapendo che abbiamo i nemici interni i nemici esterni ma dobbiamo far sì che questi centomila gatti diventino un milione di gatti alla caccia dei falsi miti di progresso alle prossime elezioni in Parlamento per cambiare veramente le cose perché con le maredonine e le raccolte firme le cose non si cambiano cambiando i rapporti di forza e dando un pugno su quel piano inclinato che sembra voler condurre verso la cultura necrofila dell'aborto dell'eutanasia guardavo oggi l'ho mandato anche a Stefano Arrighi una pagina di Repubblica diceva in Liguria ormai cominciano a fare l'aborto tutto con la RU486 perché vogliono deospedalizzarlo anche lì vogliono normalizzarlo 3.000 uccisioni solo a Genova quest'anno 3.000 3.000 bambini su una città di 600.000 abitanti che non fa più figli e allora cosa dobbiamo fare se no? se non dare battaglia Raffaella Greco mi scrive in privato mentre sto facendo la diretta gli devo dire che Raffaella sono in diretta se vuoi devi parlare mentre sono qui ebbene questo è il motivo per cui noi a Genova ci presentiamo in autonomia perché nella regione Liguria prima regione per RU486 governa il centro-destra e noi non ci possiamo mettere in combutta con questo centro-destra dobbiamo essere autonomi con le nostre posizioni per salvaguardare la vita e la famiglia perché altrimenti nessuno nessuno farà la battaglia come va fatta faranno le maratonine faranno le stupidaggini continueranno a riempirci la testa della necessità di essere beneducati e tiepidi e la battaglia vera non la farà nessuno nessuno se non il popolo e la famiglia io vi chiedo davvero è arrivato anche Mirko De Carli che tra l'altro tra un'ora ha la conferenza stampa di presentazione del suo programma a Riolo è arrivata Raffaella Greco eccola qui in diretta saluto Angelo Bello De Carli è in campagna elettorale al mercato di Riolo per incontrare i cittadini come ogni giovedì e sabato è arrivato anche Stefano Sigali pronto a dare battaglia in terra toscana saluto Francesco Sanna saluto Alex Zino colonna della battaglia in Veneto in Veneto stiamo facendo un lavoro straordinario in Veneto dove non eravamo presenti un anno fa adesso siamo presenti a Verona a Padova a Conegliano a Zevio a Teolo insomma una bandiera che sventola davvero nel territorio forse più bianco che c'è in Italia dove possiamo andare davvero a ottenere dei consensi significativi dobbiamo fare questo lavoro ora di organizzazione di ricerca consenso anche di comunicazione trovate i contatti con tutti i giornali locali le televisioni locali le reti radiofoniche locali e fate in modo di comunicare la presenza del popolo la famiglia le ragioni della nostra battaglia perché siamo nella campagna elettorale Gianfranco Amato lunedì va a Fontana Fredda arriva Cesare Fanfani battaglia anche nelle chiese nelle nostre parrocchie bravo Cesare saluto Claudia Brignoli saluto Antonio Pappalardo Elisabetta Montanelli in Toscana ci siamo organizzati c'è qualche nucleo che sta lavorando su Camaiore c'è qualche nucleo che lavora su Firenze e dunque siamo pronti a mobilitarci anche se lo dico Elisabetta Montanelli ci serve davvero una mano da parte tua per diventare un'attrice importante del lavoro del popolo della famiglia sul territorio toscano lo dico Elisabetta perché è una delle donne più coraggiose che abbia conosciuto in materia di difesa della famiglia adesso bisogna solo organizzare è foticoso organizzare ma molto spesso serve una donna e in Toscana rispetto a tante realtà che ci sono Esther Corona sta facendo un lavoro molto bello sul Grossetano ad Arezzo però dovremo ancora riuscire ad organizzarci meglio ecco Vittoria Polacci che si organizza a Forte dei Marmi e insomma coordinando tutte queste realtà possiamo anche Stefano Sigali a Forte dei Marmi anche Elisabetta Montanelli non è lontana da lì quindi insomma aggregare tutte queste realtà serve a costruire anche in Toscana una ossatura forte del popolo della famiglia Carlo Beffa dice quando verrà trasmessa l'intervista con la Maria Latella mazza che bella domanda Carlo sembra fatta apposta per fare il lancio domani sono intervistato da Maria Latella a Radio 24 dalle 10 e 20 dalle 10 e 20 del mattino domani grazie Carlo per questo assist diciamo così domani dalle 10 e 20 faccio il dibattito con Imma Battaglia del mondo LGBT saluto Federico D'Angeli gatti a caccia dei topi si altrimenti finiscono a mangiarsi i cavi del motore della macchina altro che progresso saluto Maurizio Martelli saluto Paolo Costamagna saluto Antonio Casini che prega è davvero una colonna del PDF di Roma vi ringrazio per la puntata di oggi nonostante il sabato di solito sabato di sole meraviglioso con Maria che ci ha inviato anche un raggio eccolo qui ce lo rimane no basta sarà veramente l'atteggiamento profetico per convincermi insomma ricordo che domani è la bellissima festa della mamma come dice Vittoria Bolacci ecco che è arrivata Stefano Arrighi ho salutato Maria Barbieri l'ho ringraziata fortemente ricordo a Stefano che gli ho mandato dei materiali valutarli per la comunicazione soprattutto per questa offensiva dell'aborto a Genova e in Liguria è arrivato anche Alberto Cerutti candidato sindaco a Borgo Manero il più importante centro del Novarese in cui si vota uno dei dirigenti della prima ora del popolo della famiglia grazie Alberto per il lavoro anche Bernardo Araucci ricorda la festa della mamma quindi domani ovviamente festa della mamma da celebrare particolarmente per noi del popolo della famiglia Gianfranco Amato ci informa Massimiliano alle 12 è a Verona alle 20 lunedì stiamo parlando 12 a Verona alle 20 è a Fontana Fredda alle 12 di martedì è a Conegliano e va a Mestre alle 21 di martedì così vi ho dato tutte le informazioni anche sui movimenti Gianfranco Amato grazie a Massimiliano ore 12 a Verona poi a Fontana Fredda a lunedì mentre martedì prima Conegliano e poi Mestre grazie a Alessandra Tomino a Ninarello a Francesco di Palma Antonio Casini dice se tutti i nostri nemici capissero che stiamo penando e lavorando e sacrificandoci perché amiamo tantissimo anche loro che gioia sarebbe davvero saluto Anna Russo chiedo a tutti un mi piace e un condivido alla diretta di oggi dove credo che abbiamo detto cose importanti abbiamo pregato insieme abbiamo respirato davvero l'aria di Fatima grazie alla presenza adesso devo trovare l'inquadratura di luce ops non si vede la metto ma dietro abbiamo sempre Maria insomma proteggerci c'è Paolo Costamagna anche che fa il condividi alla diretta di oggi vi chiedo davvero la condivisione della diretta per far sì che questa puntata tanto particolare arrivi a più persone possibili come dice Luisa viva Maria viva tutte le mamme fatemi aggiungere anche un viva popolo della famiglia dice Vittoria Polacci è stata una diretta indimenticabile e sì anche commovente vorrei dirlo anche commovente un abbraccio davvero a tutti voi buona festa della mamma concludiamo tutti insieme con un bel viva Maria viva Maria viva Maria la Maria di Norfi un abbraccio a tutti voi grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri